uno forte bravo dai però la testa deve rimanere dove? tra le braccia buono tieni lui e non giù chi sei Tommy? saluta la telecamera vai si apro però dal momento in cui esco del giro apro subito e spiro ce la fai Tommy? dai chi sei da? vai movimenti si uno si forte oh questo l'hai fatto bene aspetta non c'è nessuno ci sei? vai apro si bravo bravo non pensare al tappeto vai si uno aspetta tu vai apro brutto bruttissimo ferma un attimo